E meno male, meno male che c'è un genio come Paolo Sorrentino Che è entrato nella cinquina dei finalisti dell'Oscar Per aver raccontato la grande bellezza di Roma Perché qui è tutto un jobs, uno spending, un twitter, un iCare Insomma tutto un vofala americano Ma poi viene fuori lo scandalo di Girolamo E il vicepremier Alfano commenta a radio anch'io Il ministro ha subito un'aggressione per aver fatto entrare in casa sua Un personaggio dalla biografia non del tutto commendevole What? Cosa? Capiremo se avesse detto Pisapia sembrava una persona tanto per bene alla de Girolamo Ma poi ha tirato fuori all'improvviso il telefonino a tradimento per registrare Ma se la sua intera biografia non era del tutto commendevole E voi lo sapevate Allora siete politicamente responsabili e siete pure un po' fessi E poi capisco Alfano Lei vofala americano ma Quando afferma Come facciamo a vivere in un paese Che ti entra in casa una persona Senza autorizzazione del magistrato E registra, registra, registra Questa è una cosa in vereconda Lei dimentica che è stato ministro di Grazia e Giustizia E about the privacy La legge dice Che se questo Pisapia ha registrato Per proteggersi da accuse future E poi ha fornito tutte le registrazioni al magistrato E la privacy non esiste più in questo caso Ma poi si rende conto di quello che ha aggiunto La vogliamo sentire? Perché noi siamo a conoscenza di conversazioni penalmente irrilevanti? Perché un soggetto La cui biografia non mi sembra del tutto commendevole Cioè non mi sembra proprio cristallina Viene accolto in casa del ministro De Girolamo Che in quel giorno aveva difficoltà a uscire da casa Non potendo dare appuntamento in una sede ufficiale A questo personaggio Lo riceve in casa Questo personaggio porta con sé un registratorino Poi comincia a usare queste registrazioni Per buttare un'ombra addosso alla De Girolamo Che va ribadito all'epoca non era ministro Quindi la De Girolamo aveva la bambina piccola Che doveva essere accudita E ha fatto in casa Ce lo dice lei, Alfano Una riunione, diciamo così, politica Che altrimenti sarebbe fatta in una sede ufficiale di partito E che c'era di privato Il vaffanculo che ha detto Ma da quando lo dice Beppe Grillo Ormai è diventato come buongiorno e buonasera Invece il ministro De Girolamo Lei non vuole fare l'americano Fa l'italiana, verace, grida Complotto, complotto, attentato Come se il problema fossero le registrazioni E chi li ha date E non i pagamenti che sono stati bloccati Per favorire le ditte vicine al suo partito E al TG5 spunta la prova del complotto Che sarebbe stato fatto da un deputato del PD Del Basso De Caro Da un avvocato molto di destra Tale Roberto Bruzzo E guarda caso da quel Michele Rossi Il dirigente generale Che voleva far fuori appunto Pisapia Il cronista del TG5 a riprova Trasmette una registrazione Che a noi sembra perfettamente una telefonata Con la voce del ministro in primo piano E quella del solito ex Mastelliano Pisapia un po' più lontana In sostanza cosa dice Pisapia? Dice guarda che il PD vuole farmi fuori Ma se si fa fuori me Poi sei tu che sei in discussione Sei tu il vero obiettivo E il ministro replica Ma che vogliono? Io non ho preso soldi Non ho fatto favori Questi stronzi E questa volta la parola stronzi C'è nella telefonata che viene trasmessa Puntano a me Allora noi che facciamo? Corriamo a chiedere al TG5 Dacci il suo servizio Che stasera dobbiamo parlare di questa cosa Lo vogliamo trasmettere Ma attenzione Ci dicono no Non ve lo possiamo dare E perché non ce lo potete dare? Perché è di proprietà Dell'avvocato Della De Girolamo E i diritti non sono nostri E a questo punto Secondo voi Chi l'ha registrata L'ha telefonata Fate un po' Delle ipotesi Certo è che Quando è finito questo servizio È spuntata Come improvviso Il ministro E ha detto Purtroppo Io Questa conversazione La ricordo Perfettamente E vorrei vedere Diciamo Come purtroppo Io la ricordo Gliel'ha data il suo avvocato La registrazione E adesso Tocca a lei Presidente Letta Che vo' fa L'americano L'italiano Il turco napoletano La De Girolamo Solo per la scena Che ha fatto al TG5 Secondo me Merita un giudizio Quindi lei Letta O le dice No way Vai fuori Oppure Le chiede un bis Perché un'attrice così Sorrentino Di sicuro Se la prende Nel suo prossimo film Grazie 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 Grazie